Buona e santa serata a tutti, cari fratelli e care sorelle. Il Signore vi conceda la pace. Io sono rientrato da poco dalla Santa Messa Crismale insieme al Vescovo e a tutti i confratelli sacerdoti. Vorrei parlarvi un po' con il cuore, lo faccio sempre. Intanto ho provato forte emozioni. Primo perché tra pochi giorni saranno 18 anni di sacerdosio. Per 18 volte faccio questo rinnovo delle promesse e nel 2006, il 9 aprile, era Domenica delle Palme, diventavo sacerdote. Oggi ho guardato i miei confratelli sacerdoti e chiaramente si cambia, si fanno i capelli bianchi, cadono. E dicevo, ecco, ci accomuna la missione, ci accomunano le prove, ci accomunano le gioie, ci accomunano i successi o i fallimenti. Ecco, Signore, Tu hai scelto noi per renderci i Tuoi sacerdoti, ministri dell'amore, della grazia, del perdono. Hai guardato me, non ce n'erano altri? Ho detto oggi a Gesù, meglio di me. Signore, Ti chiedo perdono per tutti i miei peccati. Ti chiedo perdono per tutte le volte che ho mancato d'amore, per tutte le volte che non ho vissuto santamente la missione sacerdotale. Vorrei chiedere a tutti, a tutti voi, di pregare per i vostri sacerdoti. Non giudizi, preghiere. Non condanne, amore. Io non sono perfetto. Ho tanti limiti. A volte è noto, anche, restando in questa grande famiglia, come alcuni scrivono le email. Tante pretese. Se non rispondi subito ti accusano. Hanno subito la parola pronta. L'altro giorno una persona mi ha scritto io non seguirò più il suo profilo perché non mi ha risposto alla mail. Io ho risposto ad una mail che la signora mi ha scritto. Ma poi ci sono alcuni che mi scrivono mattina, mezzogiorno e sera. Nelle mail, nei messaggi. Quindi anche un po' di pietà. Però questo va bene, non importa. Ho sopportato di ben oltre nella vita. Oggi c'è stata anche la consacrazione degli oli. Olio dei catecumeni, con il quale si diventa cristiani nel battesimo. Olio degli infermi, con il quale si dona tanta forza e grazie agli ammalati. E' il crisma che ci rende soldati di Gesù e a noi sacerdoti. Ecco, oggi ho guardato le mie mani. Queste mani dove il crisma è stato posato diciotto anni fa. Ho sentito quel profumo di diciotto anni fa. E con queste mani io benedico, con queste mani consacro, con queste mani assolvo. Mani di un prete peccatore. Come Pietro che ha rinnegato Gesù, ma il Signore lo ha guardato negli occhi e ha detto Tu sei Pietro e su questa pietra costruirò la mia chiesa. Ecco, se ho qualche difetto, perdonatemi. Se sbaglio in qualche cosa, perdonatemi. Ma prendete il mio cuore, prendetevelo tutto. Perché è vostro. È vostro, vi voglio bene. Io soffro in questi giorni e soffro tantissimo e ve lo voglio dire. Se anche una sola persona cedesse a questi falsi che fanno profili a mio nome, questo mi fa soffrire. E infatti vedo che alcuni di voi accettate le amicizie, nonostante io l'abbia detto, ridetto, straridetto, che non ho profili privati di Facebook e non ho Messenger. C'è questo che stiamo cercando di individuare anche con la polizia postale, che addirittura arriva a chiedere soldi in Messenger. Ma se io dico che non ho Messenger, perché chattate? Perché chattate? Questo mi fa soffrire tantissimo. Mettetevi nei miei panni. Allora preghiamo questa sera, in questa notte bellissima. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo legno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte a tutti, un bacio fraterno, buon inizio di triduo e soprattutto dedicate del vostro tempo a Gesù. Grazie. Grazie. Grazie.